Esattamente, io giusto per chiarire la questione, esisteranno assolutamente d'accordo, esisteranno sempre negozi fisici, rispondiamo a delle esigenze dei clienti differenti. Quindi in base alle esigenze c'è una risposta, l'e-commerce è una soluzione, la grande distribuzione un'altra, la feretteria sotto casa un'altra ancora. Quindi in base al bisogno del cliente, l'obiettivo è rispondere al 100% del bisogno del nostro cliente. Quindi oggi come oggi noi rispondiamo a un bisogno che prima... Poi farete anche voi un negozio fisico? No, la strategia fisica non è per niente una strategia mano umana. Come il papà negli Stati Uniti. Allora Amazon, guarda io cominciò a fare un speech di questo tipo due anni fa e da due o tre anni noi, lo diciamo sempre, la strategia di un Amazon, di un eBay o di altri marketplace che sono più generaliste è poi passare sul fisico perché è per avere ancora più informazioni. Dopo parleremo di data, di informazioni, che è un po' la chiave dell'e-commerce alla fine e effettivamente perché Amazon compra enormi catene di distribuzione fisiche? Per avere ancora più informazioni sui clienti, sui consumatori, per capirli meglio e per rispondere ancora meglio alle loro esigenze. Alibaba ha triplicato, decuplicato negli acquisti di reti fisiche. La sua relazione, alla fine della sua relazione, lei mi deve scusare ma io mi comporto in questa maniera, le devo chiedere il suo fatturato, ci pensi che così... Il fatturato è pubblico, vedete che è direttamente nella presentazione, quindi non abbiamo nessun problema, si annuncia e siamo totalmente trasparenti, a differenza di altri. Allora, no? Ok, io ho 20 minuti per spiegare rapidamente chi amano a mano perché credo che ci sono ancora persone che non ci conoscono effettivamente e quindi credo che sia importante rapidamente darvi un'idea, parlare di fatturato, in modo tale che possiate capire di che volumi stiamo parlando oggi come oggi, tanto sul mercato europeo come sul mercato italiano. Due slide, ma veramente due slide, sul mercato europeo del DIY and gardening online. Non vi parlo più di cifre perché penso che durante questi due giorni di congresso ci sono state persone che di cifre ne sanno ben più che noi, soprattutto nel settore, quindi noi siamo più esperti in online che in DIY and gardening. E poi vi darò qualche tip delle best practice. Perché? Perché credo che tanto che abbiate un negozio online, un vostro shop, che vendiate sulle marketplace, che siate della grande distribuzione, che siete una marca che comincia a vendere online, tutti oggi come oggi abbiamo dei dubbi, incluso noi. Cioè è un mondo, un canale dove impariamo costantemente. Quindi se noi possiamo darvi qualche consiglio è con un grande piacere. E poi se avete qualche domanda sarò un piacere rispondervi. Allora, iniziando rapidamente, cos'è mano a mano? Siamo il primo marketplace europeo specializzato in fai-da-te bricolage. Quando abbiamo cominciato quattro anni fa non c'era praticamente nessuno. Più concretamente, ho cercato di fare questa parte di presentazione la più rapida possibile. Parliamo di un milione.9 clienti, oggi come oggi, in Europa, che hanno già provato, che hanno già comprato su mano a mano. Perché questa cifra è al centro? Perché siamo una società che è consumer-centric. Cioè il cliente è al centro di ogni nostra strategia. Da una parte cliente e il nostro prodotto è la nostra pagina web. In realtà non compriamo niente, non vendiamo niente. Conosciamo i clienti e vendiamo i prodotti dei nostri partner. Siamo presenti in sei paesi. Oggi come oggi contiamo con più di 10 milioni di visite uniche al mese. Abbiamo più di 1.200.000 prodotti online. Abbiamo più o meno 1.100, un po' più di 1.100 collaboratori in Europa, partner. Comercianti, seller, altri come volete. Più di 500.000 feedback online. Siamo 170 collaboratori, siamo tutti basati a Parigi. L'età media sono 28 anni e mezzo. Devo dire che rispetto a altre società del settore siamo molto più giovani. Effettivamente abbiamo meno esperienza su questo settore. Ma apportiamo un'altra visione che permette di avanzare. In questo canale soprattutto. Siamo più di 10 nazionalità. Perché? Perché siamo tutti raggruppati a Parigi. Non abbiamo problematiche di aprire negozi. Non abbiamo problematiche di bagno, di offrire il caffè. No, la nostra maniera di comunicare con i clienti è diversa. Tocchiamo dalla A alla Z tutti i canali di contatto online con i clienti. Questa è la nostra espertisa. Il nostro sviluppo internazionale. Nel 2003 abbiamo cominciato con la Francia. Nel 2014 abbiamo aperto il Belgio, che fa una parte della piattaforma francese. Nel 2015 abbiamo cominciato l'espansione internazionale. Abbiamo cominciato per Spagna e Italia. Perché? Perché la Spagna e l'Italia, l'Europa e il Sud, sono i mercati dove nel digitale sono ancora meno sviluppati. Quindi è lì dove abbiamo visto una vera opportunità di entrare e di apportare qualcosa di innovativo, un vero cambio. L'anno scorso abbiamo aperto la piattaforma inglese a inizio anno. La Germania a novembre dell'anno scorso. Per il momento ci faremo qua. Non apriremo altri paesi, non ci lanciamo in altre avventure. Comincieremo a consolidare il nostro business in ogni paese. Qual è la nostra visione? Questo è un punto estremamente importante. L'idea è veramente rivoluzionare il settore del bricolage, del giardinaggio, rendendo sensibili a tutti i clienti di portare avanti i loro progetti tanto in DIY che in gardening in Europa. Questa è l'idea. Qual è la nostra crescita? Parliamo di fatturato. Fatturato magari non ve lo dirò, però vi parlerò di giro d'affari. Nel 2013 abbiamo cominciato sulla Francia e abbiamo fatto un milione di euro. Nel 2014 con i Belgi abbiamo fatto 15 milioni. L'anno dopo abbiamo aperto Spagna Italia e abbiamo fatto 33 milioni. L'anno scorso eravamo su 90 milioni a livello di business volume, aprendo anche Germania e UK. Quest'anno faremo più di 250 milioni. Dovremmo essere tra i 270 e i 300. Fare delle previsioni è estremamente complesso. La nostra crescita, come vedete, è abbastanza esponenziale. Facciamo più o meno, moltichiamo per tre ogni anno. Le previsioni per l'anno prossimo stiamo già parlando di previsioni tra i 750 milioni e un miliardo. Il forecast non è ancora stato definito, però vi posso anticipare che quelli saranno un pochino gli obiettivi. E normalmente cerchiamo di ottenere i nostri obiettivi. Perché? Come riusciamo a farlo? Due cose basiche. Abbiamo un business model che è scalabile. Ripeto, non abbiamo un problema di negozi fisici, di installazioni. Cosa vuol dire? Che a livello di stock, non abbiamo stock. Sono i nostri partner che si occupano da parte stock. Quindi la comunicazione con i nostri collaboratori per noi è estremamente importante. Zero logistica diretta. Non siamo Amazon, non abbiamo problemi di dire montiamo una warehouse in ogni paese o 10 warehouse in ogni paese per fare shipping. No, quello che facciamo è deal con società specializzate in modo da poter apportare soluzioni ai nostri collaboratori. Però sappiamo perfettamente che non è il nostro lavoro. Il nostro lavoro è veramente la conoscenza del cliente. E poi ovviamente un cash burn rate minimo. Vuol dire che l'investimento per noi, per esempio, per aprire un nuovo mercato, domani decidiamo di cominciare a vendere in Portogallo. Per vendere in Portogallo avremo bisogno di un business developer che parli portoghese, una persona del servizio clienti che parli portoghese e un traduttore che traduzca la pagina web. Basta. Quindi ovviamente i costi per scalare il modello sono minimi. E scusate, dimenticavo ovviamente la facilità di esportazione. Perché? Perché abbiamo una piattaforma di acquisizione clienti web che è semi-automatizzata. Vuol dire che lì dove oggi come oggi ci sono in Europa piattaforme che grossi gruppi online, senza parlare del settore, ma di altri vertical market, che hanno, per esempio, team di 50, 60, 100 persone che si occupano della parte acquisizione clienti, noi abbiamo praticamente automatizzato la maggior parte di questi processi. Vuol dire che due persone gestiscono i feed acquisizione clienti per cinque paesi. Chi scommette sul nostro progetto? Ripeto, ci piace essere trasparenti, quindi non abbiamo nessun problema a comunicare su queste cose. Ad agosto abbiamo finito il nostro quarto round di finanziamenti. Sono entrati 60 milioni. Principalmente è stato il gruppo General Atlantic, un fondo di equiti americano, è uno dei più grossi fondi di equiti americani, è dentro, per darvi un'idea, le più grosse Blue Ship, Facebook, Instagram, Airbnb, veramente nelle grandi società tech. E gli altri sono veramente dei soci storici, sono dei fondi di Venture Capital in questo caso, CMC, Partec, BPI, la banca francese, Python, che hanno creduto in noi in uno step molto più early stage, diciamo, dovremmo ancora più giovani, dovevamo fare le nostre prove, e ci hanno permesso comunque di crescere. Quindi fino ad oggi ci sono stati investimenti di 73 milioni, questo è il totale, che ci permettono di far cosa? Basicamente contrattare collaboratori, siamo estremamente esigenti sulla parte del recruiting e dall'altra fare dell'acquisizione clienti. Perché c'è Google e Allianz, in questa slide. Forniamo parte di vari progetti di accompagnamento per le start-up. Google Skill Up è un progetto che Google ha lanciato due anni fa, per il quale hanno scelto le migliori dieci start-up sul mercato francese per accompagnare nella loro crescita. Ci permette di, diciamo, avere un contatto diretto con Google. Chi sa un po' di internet, sa che Google è chi definisce le leggi, e se non si rispetta Google, è come se non esistete. Quindi essere in contatto con Google è un vero vantaggio per noi perché ci permette di adattare la nostra piattaforma, il nostro prodotto, alle regole del mercato. E Allianz perché? Perché è la compagnia assicurativa di Supermano, che è un servizio che per ora abbiamo lanciato sul mercato francese, che è un servizio di installazione dei prodotti. L'evoluzione del mercato europeo. Allora, ripeto, passerò molto rapidamente su questo, credo che sono cifre che più o meno tutti conoscete. Il mercato del DIY and gardening è quello che è home improvement, insieme sono tra i maggiori mercati, tra i maggiori vertical marketing in Europa. Stiamo parlando che nel 2014 erano 188 miliardi di euro sul mercato europeo, e nonostante quello è uno dei vertical market dove il tasso di vendite online è ancora il più basso. Siamo a meno del 10% in media sui principali paesi. Ovviamente i mercati più maturi sono Germania e UK, poi avete la Francia e in seguito Spagna e Italia. Questa è una piccola comparazione per veramente darvi un'idea della differenza che c'è tra l'evoluzione online di vari mercati dove le dinamiche sono totalmente diverse dove i brand per esempio attuano in un modo molto diverso già da anni. Se per esempio guardiamo Consumer Electronics o tutto quello che è scarpe, la vendita online di questo tipo di prodotti sono molto più alte di tutti i prodotti legati a giardinaggio e bricolage. Se vediamo Consumer Electronics e vediamo per esempio sull'UK un 23,3% vuol dire che quasi un quarto dei clienti che comprano prodotti di elettronica li comprano online. Se torniamo un po' sul DIY in gardening vedete che per esempio l'Italia nel 2014 era 0,6% delle vendite realizzate online. Cosa vuol dire? Ci sono tutta una serie di ragioni. La logistica, la maturità del mercato online, la fiducia negli acquisti web, il sistema di pagamenti. Tutto questo influisce nel fatto che l'Italia oggi come oggi è uno dei paesi più arretrati su questo punto. Incluso la Spagna era più avanti. La cosa positiva, lo sviluppo in questi ultimi anni è rapidissimo. C'è una crescita che è esponenziale. Vuol dire che io ho preso un dato molto concreto è il numero degli shopper in Italia. Se vedete l'evoluzione che c'è stata l'abbiamo fatto tra il 2015 e il 2016 più 15% quando la media su mercato europeo se non mi sbaglio era tra il 2-3%. Quindi sì, siamo in ritardo ma ci stiamo svegliando per velocizzare e ridurre questa distanza. Quindi è un ottimo risultato. Entriamo un pochino più nel concreto. Ok? Nelle best practices per vendere online. Be smart, grow fast. Questa è un po' l'idea. Tre obiettivi principali. Questi sono dei suggerimenti sinceramente che vi diamo oggi come oggi. Essere consumer centric. Perché? Perché il cliente è chi deve definire la strategia di una società online. Cioè noi tutto quello che facciamo è sempre in base al cliente. Il vantaggio qual è? Che si può vedere assolutamente tutti gli effetti delle azioni che si compiono. Quindi da una parte bisogna fare anche attenzione a passare da una strategia B2B a una strategia B2C. Ci sono ogni volta più marche che cominciano a vendere online in maniera diretta. L'approccio non può essere lo stesso. È qualcosa da tenere in conto. E idem avere un negozio fisico essere un retail importante sulla provincia sulla regione a livello nazionale e decidere di vendere online sono un sacco di punti da prendere in considerazione. Però tutta questa fase di definizione strategica deve sempre essere guidata da il cliente. Di cosa ha bisogno il cliente? In caso contrario è impossibile riuscire a vendere online. Bisogna essere data driven. Data driven perché? Perché è un enorme vantaggio dell'online. Quando un cliente entra in un negozio di, parlevamo prima Leroy Merlin Leroy Merlin non sa esattamente dove passa il cliente ogni volta. Per esempio noi sappiamo esattamente dove è passato il cliente quali sono i prodotti che ha visitato possiamo rilanciarlo per dirgli guarda che il prodotto che ha visitato è ancora disponibile o sappiamo che un cliente che compra una motosega per il suo giardino magari avrà anche bisogno dell'olio che va con la motosega quindi potremmo proporglielo ogni sei mesi regolarmente sapendo che il cambio ha fatto ogni sei mesi. Esempi. Tutte queste informazioni ci permettono di essere sempre più consumer centric. È l'obiettivo. Ci permette di avere una visibilità al 100%. Quindi tutte le scelte tutte le scelte che facciamo sono basate su data. Data, data, data. e un punto molto importante troppa informazione uccidere informazione. La parte big data è un argomento che sarà ogni volta più basico e indispensabile per tutte le aziende perché oggi come oggi gli strumenti per recuperare informazioni sono sempre più performanti e quindi l'accesso all'informazione è molto più facile soprattutto venendo online. Cosa succede? Quando ci sono troppe informazioni rischiamo di perderci in una fase di analisi e non attuare mai. Ecco perché il terzo punto test and learn. Errar humanum est perseverar diabolicum. Nell'online è tutto una fase di test in continuazione. A, B test o meno sempre proviamo. Perché? Perché il cliente è in continua evoluzione. Vuol dire che se il numero di shopper è aumentato del 15% tra 2015 e 2016 vuol dire che le persone hanno molta più fiducia a comprare online. Vuol dire che per esempio il pago incontrato in borso che in Italia era praticamente indispensabile per aprire un negozio online fino a 5 anni fa oggi come oggi è passato da essere il 30% del metodo di pagamento più utilizzato al 5% e sarà destinato a morire. Perché? Perché è una soluzione di pagamenti per rassicurare il cliente che ha paura di comprare online eccetera eccetera quindi più la fiducia aumenta più bisogna cambiare la strategia aumentare l'informazione che si dà ai clienti accompagnarli di più quindi noi gli offriamo il caffè offriamo altre cose. Bisogna stare attenti allora questi altri due punti molto importanti sempre prendendo in conto il test and learn bisogna che la crescita sia naturale costante e controllata perché? Perché un retail che passa da fisico a online può succedere a volte che si ritrovi con dei volumi di vendite totalmente inaspettati cominciamo a parlare di una quantità di clienti di visite di vendite di business volume importanti vuol dire che se dietro non si è strutturati a livello di logistica a livello di personale diventa una bomba a esplosione a ritardamento quindi anche lì bisogna che la crescita sia naturale e costante non bisogna fare il passo più lungo della gamba perché? Perché è il miglior modo di uccidere un'azienda e ovviamente la rapidità di adattazione ripeto tutti questi punti che vi ho dato sono tutti legati in ogni caso al cliente perché bisogna adattarsi rapidamente perché se il cliente cambia anche noi dobbiamo cambiare queste sono le quattro principali KPI che ogni persona che comincia a lavorare online dovrebbe prendere in conto ok? non sono in ordine casuale c'è un senso il conversion rate dovrebbe essere il primo la prima informazione il primo KPI che guidi le vostre scelte strategiche giusto per informazione quanti in questa sala sanno che cos'è il conversion rate? se stai la mano perfetto allora il conversion rate ne parleremo dopo il business volume ovviamente sono il cash i soldi che facciamo il guadagno molto importante perché alla fine l'obiettivo è quello fare i soldi e essere rentabili e il carrello medio perché? perché il carrello medio nell'online è un altro dei punti da tenere in considerazione perché? perché influisce sulle strategie di sviluppo parallele vuol dire le negoziazioni che si fanno con i corrieri la maniera di presentare i prodotti i canali di acquisizione eccetera e il tasso di contatti il tasso di contatti perché è legato al servizio online non si vende solamente un prodotto online si vende un servizio sempre e ancora il cliente è alla base del prodotto del servizio quando un cliente compra un trapano su mano a mano non aspetta solo il trapano aspetta l'accompagnamento aspetta i suggerimenti come scegliere il tuo trapano tra i 3500 trapani che abbiamo online in base al bisogno e ovviamente una consegna adeguata che il pacchetto arrivi nel tempo indicato da un corriere professionale eccetera eccetera mi sono infocato su mi rimangono 5 minuti quindi mi sono infocato veramente su un KPI il conversion rate cos'è il conversion rate per quelli che non sapono cos'è un tasso di conversione ok è il numero di visitatori unici sul numero delle vendite cosa vuol dire che se per esempio sul mio sito il mio conversion rate è il 5% vuol dire che ogni 100 visite ho 5 clienti che hanno comprato questo non vuol dire che il conversion rate mano a mano sia il 5% quindi non scrivetelo è giusto un esempio il conversion rate lo potete calcolare è un dato molto interessante perché è più importante di fare un'analisi precisa su ogni punto del vostro negozio online quindi dal sito globale quindi quanti visitatori unici ho bisogno per cioè quante visite ho bisogno per realizzare una vendita ok sulle categorie quindi per esempio sulle categorie SR quante visite ho avuto e quante e in quante trasformazioni si sono cioè in quante e quante vendite si sono trasformate e sul prodotto ok l'analisi sul prodotto è stranamente interessante perché perché ci permette di cambiare quando vediamo che un prodotto ha un conversion rate molto basso vuol dire che sta generando molte visite ma che non sta vendendo quindi bisogna chiedersi ok perché il mio prodotto sta generando molte visite e non sta vendendo e sono tutta una serie di fattori che influenzano quello che è il commercial rate ripeto è un KPI da controllare perché è un sintomo di salute ci dice la rentabilità delle nostre azioni e quindi ci permette di controllare i nostri investimenti ovviamente un commercial rate del 0,5% vuol dire che c'è qualcosa che non va sul nostro sito è come se meno di una persona su 100 comprasse bisogna chiedersi che cosa non sta andando bene un commercial del 5% a livello online comincia a essere un commercial rate interessante quali sono i punti chiave del commercial perché vedrete tutti questi punti sono quelli che alla fine riassumono veramente quello che è l'e-commerce la tipologia bisogna prendere quando si fa un'analisi del commercial rate bisogna prendere in considerazione vari fattori il primo è la tipologia dei prodotti e la stagionalità ovviamente il commercial rate di stufe e stufa pellet in estate sarà molto più basso che in piena stagione invernale le piscine a marzo il commercial rate sarà più basso perché la gente comincerà a visitare il sito e cercare le piscine però le vendite in realtà cominceranno a farsi quando comincerà a fare bello bisogna anche prendere in considerazione questi fattori un altro punto il carrello medio ci sono prodotti che per la tipologia di prodotti che sono per il carrello medio che hanno avranno un conversion rate che è più basso o più elevato per esempio ripeto lo stesso esempio le stufe una stufa che può costare tra i 700 e i 3000 euro ovviamente questi tipi di prodotti hanno un conversion rate che è più basso perché? perché prima di comprare una stufa online un cliente guarda la scheda riguarda la scheda guarda su tutti i siti si informa quindi c'è una vera fase di riflessione non è una compra impulsiva prodotti con un conversion rate estremamente alto ma veramente estremamente alto per esempio tutto quello che sono viti un cliente che cerca per comprare viti è ovvio che compra 100 viti quindi una visita 100 vendite vedete che la differenza è abissale tra le stufe e le viti quindi bisogna comunque prendere in conto il carrello medio e la tipologia di prodotti il pricing ovviamente il pricing e le condizioni di spedizione quando parli di condizioni di spedizione parlo del prezzo di spedizione il tempo di spedizione ovviamente un prodotto che ha una spedizione in 24 ore ha una possibilità di vendere molto più elevata che un prodotto di spedizione 15-20 giorni quindi ovviamente c'è un'influenza sul commercial rate il prezzo idem un prodotto che è 20% più caro del prezzo di mercato ha una possibilità di trasformare pari a minima ve lo assicuro cioè quindi ovvio il pricing è estremamente importante nel mondo online perché la gente è ancora in una fase poco matura dove compara ancora e non compra unicamente per il servizio quindi oggi i prezzi sono molto importanti soprattutto sul mercato italiano spagnolo francese su mercati tedeschi o inglesi i clienti comprano perché si fidano della piattaforma perché si fidano della pagina quindi il commercial rate globale per esempio di ogni mercato è molto più alto su UK e Germania che su Spagna Italia o Francia per esempio la naturalità anche quello entra a parte come dicevo dipende dal mercato cioè dai clienti la qualità dei contenuti questo è estremamente importante perché? perché è uno dei punti chiave nel commercial rate se avete un buon prezzo delle buone spese di spedizione con un tempo di spedizione rapido magari genererate la visita però immaginatevi se avete una stufa a pellet e nella vostra scheda non c'è scritto niente c'è scritto giusto stufa a pellet 14 kilowatt rossa voi siete un cliente la comprereste? no io sinceramente no magari per il prezzo andrei anche sulla pagina ci finirei cercando eccetera eccetera però mai può mai mi comprare una stufa tra 800 e 3000 euro senza un minimo di informazione senza 3, 4, 5 foto senza la scheda tecnica a sapere come la installo senza un accompagnamento quindi la qualità dei contenuti è estremamente importante e questo cioè non è solo legato a ma il cliente è anche legato tra altre cose per esempio a Google che è Google a livello di rafferanzamento naturale scannerizza i robot di Google passano su tutti i siti e più la qualità dei contenuti è elevata migliore sarà posizionata la vostra pagina web la tasse servizi e feedback questa è la spada di Damocle dell'e-commerce nel senso che sempre un'ottica consumer centric quando i feedback sono negativi è catastrofico perché è lo stesso prodotto che potete avere un commercial rate del 5% due settimane prima per X o Y ragione comincia ad avere dei feedback negativi vi posso assicurare che le vendite si riducono dell'80-90% quindi per evitare di avere feedback negativi bisogna stare attenti al tasso di servizio che abbiamo quindi a rispondere il più rapidamente possibile ai clienti a trovare delle soluzioni per i clienti a essere perfetti in questa esperienza che i clienti cercano questa è un po' la ricetta per vendere online cioè tutti questi punti un commerciante online una marca uno store X chi vuole cominciare a vendere online se rispetta questi punti ha trovato la ricetta magica riuscirà perché è quello che cerca veramente un cliente conclusione vi dirò un ultimo segreto su mano a mano che ci differenzia rispetto alle altre piattaforme online è la scelta dei partner questo è il nostro hyperloop di crescita ok a cosa è dovuto basicamente selezioniamo i nostri partner siamo una piattaforma chiusa come tutte le società in questo settore scegliamo con chi lavoriamo vuol dire che per esempio una ferramenta che domani vuole avere con mano a mano non può giusto creare un conto su mano a mano no ci scrive analizziamo vediamo se c'è un reale potenziale se c'è un interesse per entrambi perché non vogliamo né perdere tempo noi né far perdere tempo alle persone e vedere se è veramente interessante vuol dire che abbiamo un numero di seller che aumenta in media del 53% ogni anno ovviamente con l'espansione internazionale fa che il numero di seller cresce notevolmente quindi essere selettati ci permette di avere degli accordi che sono molto più strategici sono delle collaborazioni veramente a lungo termine basate in un concetto veramente win to win se guadagniamo noi guadagna il nostro partner se il nostro partner non vende noi non guadagniamo niente quindi il nostro interesse massimo è che sia un successo la creazione di un conto su mano a mano per i nostri commercianti una volta che i commercianti sono entrati cerchiamo di ottenere le migliori condizioni per entrambi quindi dai prezzi a rentabilità a un catalogo che sia il più dato possibile a dei servizi che siano eccellenti quindi accompagniamo i nostri collaboratori su questi quattro punti perché ovviamente noi oggi come agiamo 170 persone esperti in digitale sappiamo perfettamente conosciamo i nostri clienti sappiamo cosa dobbiamo fare cosa ci aspettiamo dai nostri partner la conoscenza del prodotto quindi quando c'è questo binomio queste collaborazioni funzionano realmente dicevo l'obiettivo qual è è comunque incrementare il numero di vendite e di clienti il massimo possibile per i nostri collaboratori in media i commercianti che vendono su mano a mano hanno una crescita di più 167% tra un anno e l'altro questo è tra 2015 e 2016 io credo che se rifacessimo il calcolo tra 2016 e 2012 2017 sarebbe ancora più grande può essere che oggi nel salone avrete modo di incrociare i commercianti che vendono già online su mano a mano chiedetegli chiedete io dico sempre parlate con i commercianti che vendono online se li conoscete già se avete dubbi parlate con loro saranno loro in primis a dirvi come lavoriamo qual è la nostra maniera e quali sono i nostri obiettivi quindi cosa ci permette di arrivare a fare questi risultati lavoriamo strettamente con i partner comunichiamo sulle cifre cerchiamo di accompagnarli cerchiamo che siano il più efficaci possibili adattarsi a questa crescita apportiamo una vera expertise digitale come vi dicevo prima e ovviamente una volta che vediamo con partner lavora bene che sappiamo che ci possiamo fidare tanto loro come noi l'obiettivo qual è? poi studiamo se c'è una possibilità di internazionalizzazione quindi sono società che fino a due o tre anni fa vendevano unicamente sul mercato italiano che oggi come oggi vendono in cinque paesi diversi ovviamente accompagnati da noi società francesi tedeschi UK non lo facciamo con tutti lo facciamo unicamente con i commercianti che vediamo che hanno veramente un potenziale e dei risultati che sono interessanti se no per far perdere tempo ripeto non è interesse di nessuno e ovviamente miglioriamo il catalogo questo ci ripermette di contrattare dei nuovi commercianti ancora migliori rinegoziare le condizioni quindi è un circolo virtuoso io spero di che vi sia risultato interessante quello che vi ho raccontato che sono state cose nuove non so se avete questioni domande non so se avete questioni